oggi ho acquistato questo monociclo prima di tutto raddrizzo bene il sellino ecco che sia in linea con la ruota lo stringo qua e provo ad andarci troviamo un appoggio mettiamo il pedale su cui appoggerò il piede in fondo e questo lo metto sotto il sedere mi appoggio mi spingo davanti puntando il piede appoggio l'altro piede e appoggio tutto il mio peso sul sellino prendo confidenza col mezzo e poi provo il gioco logicamente è staccarsi dal muro non stare così un paio d'ora e via così mi sbilancio e voilà